Salve a tutti! L'altra volta ci siamo lasciati con la spiegazione finale dello schema elettrico del divisore di potenza e oggi andrò a realizzare questo circuito dopo aver selezionato i componenti. Ho riportato sul foglio quelli che, diciamo, ho già selezionato, derivanti sia da considerazioni teoriche ma soprattutto pratiche, nel senso che ho a disposizione nella mia cassettiera questi componenti. Partiamo dal selettore. Il selettore sarà questo qui. In teoria sarebbe dovuto essere un 250V 10A, però attualmente ho a disposizione solo un 6A. 10A perché i carichi massimi che possiamo avere nelle nostre abitazioni, per quanto riguarda resistenze, possono arrivare fino a valori di 2000W. Quindi diciamo che idealmente servirebbe un interruttore che riesca a far passare 10A. Però io attualmente ho trovato solo uno da 6, quindi metterò questo qui. Il diodo invece che ho selezionato è un diodo con part number 10A10 da 1000V 10A. Questo diodo è un diodo abbastanza commerciale, molto economico, che consiglio per applicazioni a 50Hz perché nel rapporto a qualità prezzo forse è il migliore che si riesce a trovare sui siti e-commerce. In teoria sarebbe bastato un 650V. Ricordiamo che quando si ha a che fare con la tensione di casa, i diodi che vanno messi per questo genere di applicazioni devono avere un fattore di sicurezza 2. Quindi essendo che il picco della 230V è intorno ai 314V, sarebbe bastato un 630-650V. Però io ho un 1000V quindi è ancora più cautelativo. Mentre per il condensatore ho trovato questo qui che è un 0,1uF, quindi un 100nF, 250V RMS. Quindi va più che bene per questa applicazione, è un condensatore in polipropilene, quindi non presenta nessun tipo di svantaggio per questo tipo di applicazione. Ultima cosa, per quanto riguarda il selettore, da tenere in considerazione che andrà aggiunto, sempre in qualsiasi tipo di selettore o di interruttore con parti metalliche, andrà aggiunto un collegamento fra la terra e il case dell'interruttore, che in questo caso sarebbe questa parte metallica qui, dove noi poi andiamo a toccare con le mani. Quindi per una questione di sicurezza sia del dispositivo che andiamo a realizzare, è sempre meglio effettuare un collegamento a terra di questo tipo. Il contenitore è questo qui, in pratica è una cassettina elettrica per collegamenti esterni e forse utilizzerò una breadboard. Non ho ancora deciso, forse non servirà, però vedrò strada facendo se sarà necessario. Ecco qui costruito il divisorio di potenza. Ho inserito sia la presa di input che di output. Alla fine la costruzione è venuta così internamente. Questo è il filo di terra al case e questi sono poi i tre connettori. Da notare che mentre lo costruivo mi sono accorto che il diodo può essere inserito in questo modo qui. Cioè può essere messo a cavallo dei due pin dell'interruttore. Infatti guardando lo schema elettrico questo nodo si può far collassare direttamente su questo pin del selettore. Quindi in pratica non serviva poi mettere la PCB e viene molto più semplice fatto così. Ok, adesso lo testiamo. Per eseguire il test ho collegato il divisore di potenza alla rete e una lambadina, una Bajur con lambadina incandescenza al dispositivo. Quindi adesso proviamo a vedere cosa succede. Spengo la luce e vediamo. Ok. Cambio il selettore. Beh si può vedere come la luminosità cambia significativamente. Inoltre trattandosi della lambadina incandescenza quando vado a mettere il 50% si vede che c'è una sorta di effetto stroboscopico perché non è più una 50Hz per 2 quindi 100 ma è 50Hz pure. Quindi l'occhio lo nota. Ok. Adesso andiamo a fare una prova con una lambadina non incandescenza e vediamo cosa succede. Adesso ho montato sulla Bajur una lambadina fluorescenza. Vediamo cosa succede. Questa è un po' più elaborata rispetto a una incandescenza perché dentro ha una scheda elettronica. Spengo la luce. Come potete vedere la luminosità resta pressoché uguale tranne un effetto stroboscopico che si verifica comunque perché all'interno ha il suo circuito elettronico che è fatto da ponte più condensatore di livellamento. Quindi quello che vediamo in pratica è il condensatore che si scarica di più perché si ricarica una volta ogni 50 cicli e non ogni 100 al secondo. Quindi la luminosità resta pressoché uguale a dimostrazione del fatto che non tutti i dispositivi possono essere utilizzati con questo congegno. Dopo il test di corretto funzionamento del divisore di potenza il progetto può definirsi concluso. Ultimo particolare ricordatevi di inserire, di incollare due targhette sullo scatolotto in modo da capire quando avete selezionato il carico pieno e quando il 50%. Perché fino a quando usate una lampadina è facile perché vedete la variazione di luminosità ma se per esempio utilizzate una resistenza di un forno non è tanto facile capire quale delle due avete selezionato. Ok, sono molto soddisfatto come primo progetto e niente, dal prossimo faremo qualcosa di un po' più spinto. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Grazie.